Franco Fonte, serata danzante senza licenza, sanzionato dall'organizzatore e gestore del locale. Nell'ambito dei controlli amministrativi effettuati nei locali di Siracusa e provincia, dagli agenti della divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Siracusa, finalizzati a verificare il rispetto delle norme previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, gli uomini diretti dal dirigente Francesco Giordano hanno sanzionato il gestore di un locale e l'organizzatore di un evento musicale tenutosi nello stesso locale. Il Polizetto dell'Amministrativa, a seguito di ogni sopralluogo, hanno accertato che era in corso una serata da ballo senza che l'organizzatore fosse in possesso della necessaria licenza. Infatti il locale risultava privo della prevista perizia fonometrica e stava violando la delibera del Comune che stabilisce i limiti e l'orario per le emissioni sonore. Inoltre l'organizzatore si stava valendo dei servizi di raddittura alla sicurezza senza averne dato la preventiva comunicazione alla Prefettura. Nel corso della verifica amministrativa è emerso altresì che all'interno del locale si stavano somministrando bevande senza che fosse presentata alcuna autorizzazione presso il competente ufficio comunale. Il bar infine era sprovvisto dell'apparecchio messo a disposizione dei clienti che desiderino misurare il loro tasso alcolemico. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 9.000 euro. Grazie. 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 Grazie.